Buongiorno e benvenuti a questo incontro sulla materia oscura nell'universo. Io sono Fiorenza Donato, una professoressa di fisica teorica dell'Università degli Studi di Torino. Questo incontro fa parte di un programma più ampio organizzato dall'Accademia delle Scienze e che si intitola Lungo le frontiere della fisica. Il titolo Un mistero grande quanto l'universo si riferisce innanzitutto alla dimensione di questo problema, cioè della presenza della materia oscura, nel senso che a qualunque scala noi osserviamo l'universo la materia oscura sembra presente, quindi sia a scale piccole, diciamo scale galattiche, anche più piccole di quelle galattiche, fino a scale estragalattiche anche quando studiamo delle proprietà dell'universo tutto intero. È anche un problema molto annoso, nel senso che è un problema che ha quasi 90 anni e da allora molte persone, molti scienziati cercano di capirne la natura al momento senza essere arrivati ad una conclusione definitiva, come vi spiegherò in queste lezioni. Beh, prima di partire dalla materia oscura vorrei presentarvi quella che è la materia visibile. In questa foto vedete sullo sfondo una immagine che si può in certi posti fortunati del nostro pianeta vedere anche con gli occhi nudi, che è il centro della nostra galassia, della Via Lattea. Vedete questa striscia proprio, ha dato anche il nome a chi l'ha osservata per prima, Via Lattea. Sulla foto in primo piano vedete un telescopio, anzi una serie di telescopi, ed è proprio con questi strumenti, con moltissimi strumenti, telescopi a varie frequenze, anche rivelatori di particelle cariche, non soltanto di radiazione elettromagnetica, che cerchiamo di capire l'universo. Passo ad un'altra galassia per darvi l'idea di dove ci possiamo collocare noi nella Via Lattea. Questa è Andromeda, una galassia che si trova, diciamo, vicino a noi. Vedete qui in basso, si trova a 8 megaparse, che questo è il numero corrispondente in termini di chilometri. È una galassia simile alla Via Lattea, che ha anche, diciamo, un buon gusto di porsi un po' di traverso, in modo che possiamo osservarne molte proprietà, sia nella parte centrale che nella parte più esterna. Appunto Andromeda, ecco, quello che volevo farvi vedere con questa serie di figure è la cosa seguente. Concentriamoci un attimo in basso, questo è lo spettro elettromagnetico. Allora, noi sappiamo che cos'è la luce, la luce colpisce i nostri occhi e ci permette di vedere il mondo come lo vediamo con i nostri occhi, appunto. Questa luce è una radiazione elettromagnetica che ha delle frequenze diverse, vedete qui la frequenza è molto alta, qui la frequenza è bassa, e che però noi possiamo vedere con i nostri occhi soltanto per una fetta sottilissima di questo spettro elettromagnetico. La maggior parte della radiazione elettromagnetica noi non la possiamo vedere con i nostri occhi, dobbiamo costruire, diciamo, dei prolungamenti un po' tecnologici dei nostri occhi, che sono i telescopi. In questa figura qua in alto vediamo Andromeda, la parte centrale l'avete vista nella slide precedente, ed è stata costruita attraverso delle immagini nella banda del visibile. Questa è Andromeda vista nella banda radio, nell'infrarosso, nell'ultravioletto, con i raggi X, e qui in alto ho inserito un risultato molto recente di Andromeda vista attraverso i raggi gamma, che sono la parte più energetica dello spettro elettromagnetico. Possiamo osservare come diverse frequenze ci permettano di vedere la galassia in un modo diverso, perché sono proprio i processi fisici che causano la radiazione elettromagnetica che sono diversi, e quindi sono estremamente informativi. Noi possiamo, attraverso la misura della radiazione elettromagnetica, che proviene dagli oggetti, contarli e anche dedurne la loro massa. Questo riguarda non soltanto i pianeti, che sono gli oggetti più, insomma, tra virgolette più familiari a noi, le stelle, le galassie, gli ammassi di galassie, molto gas che si situa tra questi oggetti. Possiamo misurarne la loro massa e tuttavia, anche quando l'abbiamo fatto per tutti gli oggetti dell'universo, viene spontaneo chiedersi se sia tutto lì. Vedete nello sfondo questa immagine, che è un'immagine fisica di lente gravitazionale, questa simpatica faccina di cui vi dirò qualcosa dopo. La prima volta in cui abbiamo sentito nella storia della fisica parlare di materia oscura è avvenuto grazie a questo fisico austriaco, che vedete in questa fotografia, che è Fritz Zwicky. Questo avvenne nel 1933, quando Zwicky studiò il moto delle galassie nell'ammasso della chioma, che ha almeno mille galassie identificate. La velocità delle galassie in questo ammasso è stato misurato a essere troppo grande rispetto alla massa che corrisponde soltanto alle galassie osservate. Se la massa che tiene insieme le galassie nella massa della chioma fosse solo quella visibile, in realtà queste galassie a quella velocità dovrebbero allontanarsi dal centro galattico, in qualche modo dovrebbero evaporare. E il rapporto che c'è tra la massa, diciamo, che giustifica il moto di queste galassie, la massa luminosa è molto grande ed è un fattore cento. E questo ha portato prima Zwicky e poi moltissimi altri studiosi, collaborazioni scientifiche, grazie a moltissimi altri dati, a convincerci che il rapporto tra la massa dinamica, cioè che causa il moto osservato degli oggetti nel cielo, la massa luminosa sia molto grande e questo ha indotto a credere che ci sia una materia che però è oscura, cioè che non emette radiazioni elettromagnetiche. Questa osservazione è stata confermata a scale, diciamo, dimensioni diverse, che sono quelle galattiche. Vedete in basso una grandissima pioniera degli studi sulla materia oscura, una grandissima scienziata che è Vera Rubin. Vera Rubin, insieme ai suoi collaboratori, negli anni 70-80, ha misurato le curve di rotazione di moltissime galassie a spirale. Allora, che cosa sono le curve di rotazione? Partiamo da questa immagine molto, dire, pittorica, molto semplice. Questa è una schema di una galassia a spirale. Qui dove vedete la freccina c'è il centro della galassia e a diverse distanze dalla galassia ci sono degli oggetti, cioè delle stelle o del gas, che sono in rotazione con tutto il disco della galassia. A seconda della posizione dal centro galattico, questi oggetti ci si aspetta che abbiano una certa velocità. Vedete a sinistra una formula che ci dice qual è la velocità che ci aspettiamo per questi oggetti che si trovi in una distanza r dal centro galattico. Quindi questo r qua è piccolo, questo è più grande e via dicendo. Se uno considera la legge di gravitazione universale, il fatto che esista un'accelerazione centripeta, trova questa formula molto semplice da ricavare. e ci dice che la velocità di questi oggetti è data dalla radice quadrata di G, che è una costante, un numero, la costante di gravitazione universale, da tutta la massa che si trova nel disco di raggio R, quindi all'interno, diviso la distanza dal centro galattico. Quindi ci aspettiamo una curva come quella che vi sto evidenziando, che è scritto expected. Questo andamento è dato dal fatto che pensiamo anche che ci sia una componente gassosa, una componente di disco, in ogni caso ci aspettiamo che cresca per raggi piccoli e che poi diminuisca, diminuisca lentamente come la radice R. Beh, quello che si trova è qualcosa di molto diverso. Vi metto qui di nuovo una figura simile, questa volta vista dall'alto, con dei dati sperimentali. E quello che si trova per moltissime galassie è una curva rotazionale, non diciamo piatta, ma sostanzialmente piatta, sicuramente che non evolve come 1 su radice di R. Questo significa che la massa contenuta all'interno di un raggio R dal centro galattico deve essere proporzionale circa ad R. La deduzione che ne facciamo è che quindi questa massa sia molto più grande di quella che ci aspettiamo dalla formula che vi ho fatto vedere prima e che quindi ci sia una presenza di una enorme quantità di materia non visibile, che appunto chiamiamo materia oscura, che contribuisce gravitazionalmente alla velocità di rotazione della materia visibile. Si pensa che attorno a tutte le galassie, quindi compresa la nostra, esistano degli alone di materia oscura che costituiscono circa il 90% della massa della galassia. Adesso volevo farvi vedere con un pochino più di dettaglio l'idea di lente gravitazionale. La lente gravitazionale è un fenomeno che è stato previsto da Einstein, fa parte appunto della teoria della relatività generale, e prevede che la radiazione luminosa che viene emessa da un certo oggetto, per esempio da questa galassia lontana da noi, qui siamo noi con i nostri telescopi, se incontra un oggetto molto massiccio possa, anzi debba essere deflessa. Questo principio è stato verificato molti decenni fa, ma viene, diciamo, attualmente impiegato in moltissime osservazioni di oggetti lontani. Quindi la galassia che emette questa radiazione luminosa in realtà viene vista attraverso questa direzione arancione. Vedete, i raggi prima vengono curvati, poi ci arrivano con questa direzione. Se noi cerchiamo di ricostruire l'oggetto nel cielo, in realtà non lo vediamo come un punto, o comunque come una zona estesa attorno a un centro, ma vediamo degli archi tendenzialmente che sono delle porzioni di raggi, diciamo, la ricostruzione delle porzioni di raggi che sono stati deflessi. La misura della distorsione di un'immagine è appunto estremamente impiegata attualmente in cosmologia e in astrofisica e ci permette di confermare che a larghe scale nell'universo esista una grande quantità di materia che devia appunto la radiazione luminosa e che è la materia oscura. Questo è un breve schema sulla composizione dell'universo. Quello che sappiamo attualmente è la cosa seguente. Solo circa il 4%, poco più del 4% dell'universo in forma di materia nota, cioè di particelle, atomi, gas che noi conosciamo. Molto è gas, ci sono le stelle, ci sono gli elementi pesanti, i neutrini su cui non ho tempo a soffermarmi, ma che contribuiscono pochissimo. Circa il 25% dell'universo in forma di materia oscura, cioè di una materia che non sappiamo che cosa sia e che non emette radiazione luminosa. e il 70% è in una forma di energia oscura su cui non ho tempo di parlare, ma che contribuisce enormemente al bilancio di materia e energia dell'universo e che determina in modo molto caratteristico l'evoluzione dell'universo. Allora, noi concentriamoci sulla materia oscura. Di che cosa si tratta? Beh, direi che ci sono due grosse linee sulle quali possiamo lavorare per cercare di comprendere questo problema. La prima è che effettivamente la forza di gravità non sia ancora sufficientemente compresa e che quindi la spiegazione possa essere legata alla gravità. Ci sarà una presentazione da parte del professor D'Aferio su questo argomento. Una seconda possibilità, che è quella che percorro io oggi, è che esista una particella che costituisce gli aloni oscuri attorno alle galassie, agli ammassi di galassie. Allora, va notato che tra tutto il catalogo di particelle note a oggi, al 2021, non abbiamo una sola particella che abbia le caratteristiche che deve avere una particella di materia oscura. Allora, cerchiamo di capire quindi come si cerca questa materia oscura. Beh, se effettivamente fosse una nuova particella possiamo provare a produrla e questo viene normalmente svolto agli acceleratori come al Cerni-Ginevra. E poi abbiamo altre due vie invece più caratteristiche che cercano i segnali astronomici tipici di una particella fossile del Bing Bang che sono la ricerca diretta e la ricerca indiretta di materia oscura su cui vi dirò due parole nel seguito. Allora, parliamo di ricerca di nuove particelle. L'idea, anche qui viene da Einstein, ed è che l'energia si possa trasformare in massa. Quest'idea è molto pesantemente applicata nei nostri acceleratori di particelle in cui due particelle, per esempio due protoni, come succede in questi anni all'LHC del Cerni-Ginevra, vengono fatti scontrare tra di loro a delle energie elevatissime. Questi urti possono produrre una serie di particelle che, con dei rivelatori estremamente sofisticati, si cerca di misurare. Questa figura vi fa vedere una collisione tra due protoni come osservata in uno dei rivelatori, questi enormi rivelatori che ci sono al Cerni-Ginevra. Al momento non abbiamo segnali di nuova fisica, cioè segnali di particelle che ancora non siano state scoperte in precedenza. In ogni caso, anche se questo avverrà, noi tutti aspettiamo una scoperta di nuove particelle agli acceleratori, non è detto che poi questa particella abbia tutte le caratteristiche adatte per essere un redditto del Big Bang che costituisca la materia oscura nell'universo e l'alone delle galassie. Quindi, per esserne sicuri, dobbiamo cercare di osservare questa ipotetica particella in altri modi. Allora, il modo più diretto, appunto, come dice il nome, è la ricerca diretta di materia oscura. L'idea è che un vento di particelle di materia oscura riempia tutta la nostra galassia e che questo vento possa colpire certamente anche noi, ma l'interazione è talmente debole che non ce ne accorgiamo, e anche un sofisticatissimo apparato sperimentale. L'idea di base è che questa particella, l'acronimo spesso è WIMP, quindi è la particella di materia oscura, urti un nucleo del rivelatore e che venga misurata l'energia di rinculo di questo nucleo. L'energia che ci aspettiamo, l'energia di rinculo, è molto piccola. I segnali sono molto rari e spesso sono anche ambigui con altri segnali che provengono da, diciamo, da rumori di fondo che sono presenti nell'apparato sperimentale. Quindi è necessario costruire degli esperimenti di altissima precisione ed è necessario che questi esperimenti siano posti in ambienti estremamente puri. la ricerca diretta di materia oscura può solo essere fatta in ambienti in cui questo rumore di fondo sia ridotto al minimo e in particolare in laboratori sotterrani. Il rumore di fondo principalmente è dovuto alla radiazione cosmica che arriva dallo spazio. Tutta la nostra galassia è impregnata di particelle, di protoni, di elio, di elettroni, di nuclei che quando arrivano sull'atmosfera terrestre possono frantumarsi, produrre una cascata di particelle secondarie e queste particelle possono diciamo inquinare il segnale caratteristico che stiamo cercando. La montagna assorbe la maggior parte di queste particelle quindi si possono costruire dei laboratori proprio nei cuori profondi delle montagne questo è stato fatto per esempio in Italia alcuni decenni fa noi abbiamo l'onore di ospitare i laboratori sotterranei migliori del mondo al momento sono i laboratori nazionali del Gran Sasso e sono di proprietà e di gestione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Allora la situazione sperimentale al momento direi è estremamente complicata ed estremamente avvincente. Alcuni esperimenti hanno negli anni passati misurato dei segnali che potrebbero essere compatibili con un segnale di materia oscura altri esperimenti invece non hanno misurato segnali e quindi hanno soltanto escluso alcune caratteristiche che questa particella può avere la situazione è aperta quello che si sta cercando di fare è di capire la solidità di tutti quanti questi risultati di interpretarli teoricamente di interpretare sia un'eventuale presenza sia un'eventuale assenza di segnale la situazione da un punto di vista di ricerca è estremamente attiva ci sono molti esperimenti in corso in laboratori sparsi nel mondo non soltanto nel Gran Sasso alcuni esperimenti sono in costruzione altri sono progettati con tecniche sempre più raffinate innovative per cercare di misurare questo segnale quindi aspettiamo negli anni a venire una risposta più definitiva naturalmente speriamo che sia positiva cioè di presenza, di scoperta vedremo volevo ancora dirvi due parole sulla ricerca indiretta di materia oscura nello spazio in questo caso l'idea è che due particelle di materia oscura questa volta due possano amichilire distruggersi tra di loro e originare una serie di particelle note e queste particelle note le possiamo cercare nei raggi cosmici appunto in questa pletora di particelle che permea tutto lo spazio siccome appunto ci sono molte particelle di natura nota diciamo dobbiamo cercare un'eventuale presenza dovuta alla materia oscura laddove i segnali di fondo siano più rari questo è il canale per esempio dell'antimateria tra parentesi l'antimateria esiste è molto rara ma l'abbiamo misurata per esempio attraverso gli antiprotoni o i positroni oppure possiamo cercare una componente di amichilazione di materia oscura nei raggi gamma che sono dei fotoni ad altissima energia e che possono diciamo ricostruire la posizione della sorgente di materia oscura che li ha creati questo è di nuovo uno schemino della nostra galassia vedete molti raggi cosmici particelle note queste sono oppure due particelle di materia oscura che nell'alone possono distruggersi tra di loro e per esempio produrre dei positroni che poi diffondono in modo abbastanza casuale nella galassia e possono arrivare al sole che vuol dire a uno dei nostri rivelatori gli esperimenti che cercano in modo indiretto materia oscura sono molti devono essere operati nello spazio una possibilità che è stata anche quella pioniera diciamo e di agganciarli via dei palloni aerostatici qui vedete il lancio di un pallone con alla base il cestello che contiene l'esperimento oppure nello spazio in questa bellissima fotografia della stazione spaziale vedete questo cerchio rosso che è attorno a un esperimento d'avanguardia che si chiama MS che da alcuni anni prende dati nello spazio proprio trasportato e supportato dalla stazione spaziale molti altri di questi esperimenti sono agganciati su un satellite anche qui la situazione è al momento molto aperta ci sono alcuni deboli segnali che sembrano compatibili con una presenza di materia oscura ma nel momento in cui cerchiamo di interpretarli ci rendiamo conto che dobbiamo ancora fare molto lavoro teorico per prevedere tutti i possibili rumori di fondo tutte le possibili diciamo le possibili fonti di ambiguità questa tra l'altro un'attività che ci ha portato a comprendere molto meglio la nostra galassia le sue sorgenti e quello che permea la nostra galassia e anche qui la situazione è molto avvincente e direi al momento aperta io concludo questa chiacchierata con delle riflessioni non mi sentivo di scrivere conclusioni perché è un problema così complesso e così aperto che conclusioni forse non ce ne sono vorrei solo ricordarvi come la ricerca di materia oscura in realtà sia la ricerca alla soluzione di uno dei problemi più grandi che abbiamo nel campo della fisica e questa impegna è un numero molto elevato di scienziati di agenzie finanziatrici di laboratori e di tecniche di rivelazione e di fisici teorici che cercano di prevedere e di interpretare tutti questi risultati è una ricerca di assoluta frontiera nel senso che dobbiamo andare dove non sappiamo che cosa ci sia non sappiamo nemmeno come cercarlo quindi dobbiamo farci venire in mente nuove tecniche di rivelazione dobbiamo migliorare non soltanto tutta la parte sperimentale ma anche i nostri calcoli teorici che è l'attività in cui sono inserita io i segnali di materia oscura che ci aspettiamo sono debolissimi molto ambigui molto difficili da identificare devo dire questa in realtà sembrerebbe una frustrazione invece è molto avvincente molto interessante è una sfida intellettuale molto molto divertente anche devo dire al momento la scienza è certo in grado di esplorare dei potenziali segnali interessanti non abbiamo risposte definitive al momento speriamo di averle presto grazie per la vostra attenzione grazie grazie grazie